Nanni Russo si dimette da capogruppo di Forza Italia, un passaggio che è emerso durante il vertice di ieri a Via del Pomerio alla presenza della dimissionaria Anna Orlando. Il gruppo consigliare vira su Antonio Capuano, la scelta è racchiusa tra lui e Mila Lombardi che pare però defilarsi, ma al di là di questo dal summit di ieri emerge un quadro politico già in fase di costruzione, per quanto attiene il sostegno a Clemente Mastella prossimo a dimettersi e a rilanciare la sua sfida per Palazzo Mosti. Azzurri allineati e coperti e al lavoro per comporre una lista di qualità. Insomma Mastella chiama il centrodestra al Serrate e i ranghi, a Benevento come a Napoli. La Lega per ora non sembra interessata ma il ceppalonico, pur marcando stretto il locale, punta a collegarsi direttamente con le segreterie nazionali e dato che non agisce mai senza avere esaggiato il terreno è plausibile che parli con cognizione di causa. Rifare una coalizione che lui stesso ha contribuito a destrutturare, almeno in fase locale, è pur sempre impresa non semplice. Chiedergli come garanzia un passo indietro sulla sua candidatura, sua diretta o di un suo epigono, potrebbe essere la cambiare da far firmare. Mastella non più battitore libero ma uomo di cordata, leale alle alchimie di coalizione, e beh meriterebbe un paragadute da parte dei suoi interlocutori più diretti. Il segretario provinciale ha dato dei dati e dei numeri e credo che questo sia un dato incontrovertibile. Penso che lui stia lavorando a questo perché una buona lista che sia competitiva è compito del partito e quindi del segretario provinciale. Credete in un centrodestra a Guida Mastella? Sicuramente sì, anzi auspico che il centrodestra sia a Guida Mastella perché in questi quattro anni abbiamo messo in piedi tante di quelle cose, anche se qualcuno dice di no, partendo da sotto zero, perché uno che parte con 120 milioni di debiti non è cosa da poco.